Depuratori non hanno arma, scarichi non allacciati perché all'interno di lottizzazione abusivo senza rete fognaria, acque reflue sversate impunemente. E il grido d'allarme lanciato da Lega Ambiente Calabria nel rapporto Acque Nere dossier sulla mala depurazione. Dei circa 700 impianti di depurazione tra grandi, medi e piccoli sparsi in tutta la Calabria, documenta Lega Ambiente, la maggior parte non funziona o funziona male. Basti pensare, conclude il rapporto, che tra il 2006 e il 2010 sono stati accertati 1.689 reati legati alla depurazione e a scarichi in mare illegali. Ben 22 comuni calabresi, tra i quali Scalea e Santa Maria del Cedro, risultano inadempienti alla normativa 1991-271-CE sul trattamento delle acque reflue urbane. Una serie di tristi primati che portano la Calabria ad essere la terz'ultima regione italiana per la depurazione. Nella sola provincia di Cosenza, tra il 2006 e il 2010, ci sono stati 292 arresti e 495 sequestri. Un disastro ambientale che lentamente distrugge l'unico patrimonio della regione, il mare. E questa volta non è frutto della fantasia di qualche ndranghetista. I dati non mentono, ma dall'altra c'è ancora chi vuole mostrare, giustamente, una Calabria diversa. Domani, infatti, a Cetraro si terrà un incontro per il rilancio del Tirreno, una seduta preparatoria per il grande meeting che andrà in scena a maggio. Il tutto per risollevare l'immagine di Cetraro e dell'alto Tirreno-Cosentini in generale, dopo la scottante questione nave dei veleni. L'iniziativa è organizzata dal direttore di Calabria Ora, Piero Sanzonetti, e proprio in queste ore ha confermato la propria adesione all'iniziativa anche l'Unione Nazionale Cooperativa Italiana e Calabria, Divisione Pesca. Perché i propri pescatori hanno pagato le maggiori conseguenze. La Kunski, la nave a largo di Cetraro, non esiste. La DDA di Catanzaro, che ha chiesto l'archiviazione del caso, ne è convinta. Il pentito di Indrangheta, Francesco Fonti, ha detto molte falsità, ma dall'altra anche un monito deve essere chiaro. La nave dei veleni non è a Cetraro, ma ciò non vuol dire che tutte le navi dei veleni non esistono.